amici siamo i lavini di marco sto riprendendo una mantide religiosa ha catturato una farfalla e la sta mangiando un pezzettino alla volta mangia la farfalla come vedete sta con quella probosside che ha come due grossi denti due chele sta mangiando piano piano la farfalla a pezzettini adesso vista più da vicino panoramiche della zona i lavini di marco di rovereto trentino grazie